Ti servono crediti per iniziare la grande FIFA 17? Passa da igvolt.it, sito veloce, facile e sicuro Con il codice Fuse avrai subito il 6% di sconto Link in descrizione Dici, bella ragazzi carichavano mai da Mirko Gamer No, no, dai Dici, bella ragazzi carichavano mai da Mirko Gamer Oggi ragazzi Ehi, a fanbrez Bella ragazzi, carichavano mai da Mirko Gamer Ehi, a fanbrezzi un po' Che cazzo c'ho? Vai, bella Insieme E va, insieme Cominci tu? Al mio 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bella ragazzi carichavano mai da Mirko Gamer Oggi ragazzi siamo con un mini pack opening E forse anche con un draft Oggi ragazzi hanno messi questi pacchetti da 250 FIFA points 12.500 crediti Oggi in compagnia mia c'è Un giocatore Mirko Gamer Bello Ok vai Ci hanno detto che è buono Che ci sono buoni questi pacchetti quindi Chi te l'ha detto che sono buoni? Eh, meglio non dirlo il nome Sennò a fare che gli faccio brutta pubblicità Vedi? Oh, questo è giocatore raro questo qua, il bronzone No, è l'argentone Ma che argentone? Eh, guarda Vabbè E' la forza Mamma mia Città Vabbè E' la forza E' la forza Ciao Leo Scarta scarta No vabbè Il club Ho scartato prima Cazzo scartato Che coiù Ho scartato Ho scartato mi servono le cose per la squadra bulnik challenger guarda qualcuno 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 visto come fa a fare le cose argentate se esce un'altra volta spero vieni aprilo la giampecca stessa olè dai 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 è buono è buono qua questo hai visto come esce un'espansione lei ha trovato oreglie speriamo sia almeno oro raro non lo è che cazzo ma fa muca mamma voglio orare nella scena giù allora 300 viva points allora il modo lo sceglierà sempre lui vabbè anzi aspett qua mettiamo estrema allora allora qua c'è un modulo anzi sono tre moduli buoni tre ci sta c'era il quattro delle due comunque era buono e il quattro delle defensivo però è falso 9 va bene quattro delle falso 9 ok allora allora ragazzi io guardo vicino alla telecamera e guardo anche la scherma dalla televisione così mi metto vicino al microfono e attenzione allora qua c'è uno allora ovviamente lo guardo tutti quanti però c'è anche un altro che mi piacerebbe perché non mi è mai uscito in un trap però comunque mirko a te la scelta 1 sicuro hai scelto di bala non è bene ok dai allora andiamo con la t adesso mamma ti sei portiere ok vai vai 5 brava trap vai difensore centrale va 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 dai 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 da qua ce ne servono due vado si 4 buonissimo è l'ustondo però c'è veramente fa intesa allora qui possiamo trovare un gioco tre molto forte c'è che ci fa intesa uno solo 4 mannaggia ma in una posizione mi piaceremo canone all'utazione sinistra quasi probabilmente c'era qualcuno di ok 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 ce ne sono due che ci servono amico 2 bello credibile allora quace acce nè uno può però che cosa è e i 5 Amir si va tutta da parte Vabbè cdc Vabbè qua Ci sono gli argentoni Cc Ok allora qua ce ne sono due che ci servono 3 Ionita Che è quello del Cagliari Oh sono andato all'attimico Oh mio dio Mirko c'è una leggenda Ci sono due leggende Mirko E c'è anche Suarez che ci serve Allora se non incarri Ti strizzo le palle No no Mirko non vuoi sbagliare 2 Echia Mirko si da un merdo Si da un merdo Dai Mirko c'era pure Tibara Che era buona preso di Cocosta Era 1, 4 e 5 Eh mucca nonno Dai Sembra mi esce messi non lo scegli Allora ok C'è messi e bail Se non li scegli Mirko Mirko Eh Eh 5 Non è possibile Di Maria Dai ragazzi Lasciate un like solo per Mirko Ma fammi La panchina La panchina Sto facendo Ok ce n'è uno che è 90 La quartiere Eh 3 Bravo buffon Però non è 90 Però la Waller Oh Ok qua c'è questo Non lo so C'è ce ne sono 3 in realtà che ci servono Questo Questo e questo Questi Eh 4 Bravo Bravo Anco con Bartinez Almeno ci fa intesa Qua ok Ma no Mirko ce ne sono 2 Anzi Ce n'è uno che veramente ci serve E questo qua 5 Bravo bravo Ok Oh mio dio Allora qua Mirko Mirko non è mai uscito Andres Mirko Mamma mia Mirko Se lo avete solo in carri Non è mai uscito in un draft Eh Cioè Figura che non è mai uscito nel draft E non l'ho mai messo nella squadra Quindi Cioè Una volta che è uscito Me la devi far mettere in squadra 2 Sì 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 E andiamo Mamma mia E andiamo così Vai Qui scegli Vai un altro Veloce lui Gioiamo 4 Ok Va bene però Basta che è uscito Andres iniesta Ok Oddio Oddio A qua c'è Suarez Un'altra volta amico C'è Suarez Ok vai Suarez 4 Mertens Mertens E' il fluido napoletano Questo Ah può c'è essere il fluido napoletano Ok qua è posizione importante Ok Allora qua ce ne servirebbero due in realtà Sì Uno E Maxwell Mirko Perché Mirko Mi serviva il portiere Allora Leggenda 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 Quella di prima Mirko Quella di prima Quella di prima Mirko Eh Attaccante Eh Quella da la tt prima Non mi Eh Dai Mirko 4 No Noo Mirko Cazzo Vai Due volte Me ne ho fatto scartare Da Ma chi è Ecco Eh Mamma ricordo Vitolo Chi manca Vitolo C'è un Vitolo Che ci servirebbe Due Bravo Veramente Bravo Mirko Bravo Due partano A fortuna Va bene Ok Allora Qua Un'altra posizione Ok Come hai detto Prima Ok Aspetta Aspetta Qua è l'ultima posizione Ok Vabbè Qua sono Oro Normale Uno Ok Bravo Vabbè Ragazzi Allora Siamo riusciti A fare Aspetta Prima di Di Slegarti Come cazzo Si dice Ti liberati Da questa benda Siamo riusciti a fare 134 Mirko 134 134 in a draft 134 134 Fu draft Quanti like Lasciamo 134 Mila Mi piace Eh si Facciamo Due Più tre Zeri Due 130 Mila Ok Due Più tre Zeri A due Mila Passate Da Codice Fuse Per il 6% Di sconto Da me E Mirko È tutto Noi ci riusciamo Nel prossimo video Bella ragazzi Mirko Bella ragazzi Da Bella ragazzi Comunque adesso Non è vero Che l'hai preso No 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 Non No 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 Grazie a tutti.